Fedez è stato nuovamente sottoposto a un intervento chirurgico notturno a causa di un improvviso sanguinamento mentre era in cura presso l'ospedale Fatebene Fratelli Sacco di Milano dove era ricoverato da alcuni giorni. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera è stato necessario eseguire un'urgente gastroscopia per fermare e sotturare il sanguinamento di un'altra ulcera. In seguito è stata effettuata una nuova trasfusione di sangue e sembra probabile che il rapper non sarà dimesso nelle prossime ore. La moglie Chiara Ferragni e i genitori di Fedez lo hanno visitato stamattina in ospedale dove, sebbene ancora debole, il sanguinamento è stato efficacemente fermato. Grazie a tutti!